E' una soddisfazione enorme che si parla solo avendo fatto tanti sforzi, impegno, fatti mi sento soddisfatto di quello che ho fatto in quei giorni. La ginnastica artistica è lunedì, una volta al mese al Fermi con Mela Gallardo e con Tommy che mi seguono da tanto e mi hanno portato a questi risultati. Mi piace perché inserino tante cose, per il lavoro, per tante regole, mi dà tanta stare anche insieme agli altri miei compagni, mi sento bene con gli altri e spero di avere un lavoro più avanti. Davide è molto contento di questo corso, ci racconta che fa teatro e questo gli dà il modo di comunicare con gli altri ragazzi, di stare insieme, di usare le sue abilità. è un corso che CIAC organizza ormai da anni qui sul territorio del Ciriacese, sono ragazzi che vengono da noi per 1200 ore in due anni, quindi sono 600 ore ciascun anno e queste 600 ore c'è anche una parte, ci sono delle ore di stage, quindi un'opportunità importante che diamo a questi ragazzi perché possano sperimentare anche un'esperienza in un contesto lavorativo. collaboriamo con associazioni e cooperative del territorio che si occupano di disabilità e anche i professionisti coinvolti come docenti sono professionisti che hanno un'esperienza decennale in questo ambito.